Allora benvenuti, benvenuti a tutti, siamo su Edmondo uso Edmondo come piattaforma perché ha la OpenSIM 072 e con questa vedremo di seguire la lezione che abbiamo fatto già i mercoledì di Edmondo con gli insegnanti, in particolare questa sera vedremo la lezione che ho fatto su Rating di curve algebriche quindi curve parametriche che si possono ottenere facilmente nei mondi virtuali tipo Second Life OpenSIM userò una tecnica diciamo costruttiva, quindi parto dal nulla per farvi vedere come si può fare una cosa semplice quindi partiamo costruendo un cubo che diventerà il nostro rezzer di curve grafiche quindi lo chiamiamo rezzer di curva parametrica ricordiamoci sempre di accertarsi se vogliamo che lo sia, che sia full permission e se vogliamo che qualcuno lo possa copiare gli mettiamo il copy poi dentro gli cominciamo a mettere un primissimo script anche qua questo script che lo chiamiamo rezzer curva e questo qui ci accertiamo che anche lui sia full permission così se per caso lo dobbiamo andare in giro non ci sono problemi ok? ora, prima di tutto, prima di cominciare facciamo un altro giochino nel senso che prendiamo un oggetto che dovremmo rezzare quindi facciamo, creiamo una sfera diciamo quindi andiamo in Object, facciamo una sfera eccola qua, sfera magari la rimpiccioliamo un pochino quindi invece di mezzo metro facciamo ad esempio 0,1 0,1, 0,1 quindi diventa un pallino gli diamo un colore quindi togliamo la texture facciamo un blank, bianca e facciamo che plottiamo in rosso e questo diventerà praticamente il nostro elemento che verrà plottato per indicare i punti della funzione a questo punto cosa facciamo? affinché sia un oggetto plottato allora gli mettiamo punto punto tutto minuscolo così non abbiamo problemi e gli mettiamo ancora nelle caratteristiche il fatto che sia temporaneo cioè questa è una cosa importante perché quando plotteremo funzioni con tanti punti vorremmo fare in modo tale che non creino sporcizia sulla sim poi ovviamente voi potete fare come volete allora il punto che abbiamo creato ce l'abbiamo qua negli oggetti apriamo il nostro oggetto nel suo contenuto il rezzer e gli infiliamo dentro questo punto appena creato quindi facciamo così in questo modo abbiamo il punto dentro e a questo punto proviamo a fare un rezzer di curva gli facciamo fare come primissima cosa allo state entry se vogliamo gli facciamo fare semplicemente il rezzer di questo punto quindi facciamo l l res object gli diciamo quale oggetto vogliamo fare punto i parametri che vuole sono possiamo andare qua quindi vuole il inventory la posizione poi vuole velocità e rotazione e un parametro quindi vuole la posizione in cui vogliamo plottarla che diciamo che sia uguale a l l get pose cioè la posizione attuale del cubo più e la mettiamo leggermente in alto di un metro la velocità la facciamo 0 vector quindi non ha una velocità e poi gli mettiamo una rotazione 0 rotation e infine un parametro che in questo caso non ci interessa che sarebbe questo 0 allora nel momento in cui a questo punto facciamo il salvataggio di questo script allora lo cerchiamo di farlo un pochino più piccolo in modo tale che stia meglio ok facciamo il salvataggio di questo script e vedete che abbiamo plottato sopra si è plottato sopra il puntino a questa altezza ora quello che vogliamo fare è creare una curva quindi plotteremo questo punto facendo variare un parametro fra le coordinate iniziali e le coordinate finali quindi prima di tutto ci accertiamo allora questo meccanismo che avete visto per plottare un punto possiamo farci una bellissima funzione quindi facciamo plot se volete se non mi piace l'inglese possiamo anche chiamarlo disegna o quello che volete comunque però plot è un termine abbastanza usato quindi plot in cui diciamo che vogliamo plottare qualche cosa a certe coordinate che saranno facciamo float x float y e float z quindi vogliamo plottare qualcosa a queste coordinate plottare qualcosa a quelle coordinate significa come abbiamo visto fare un ll res object e qui lo scriviamo il punto in cui invece di mettere 0, 0, 1 gli mettiamo le coordinate x y e z quindi a questo punto se vogliamo plottare qualcosa basta che qui invece di mettere l'l res object gli scriveremo plot e poi gli diciamo vogliamo plottare qualcosa alle coordinate gli diciamo quindi x y facciamo anche 0, 0 e poi possiamo dirgli 0, 0 e lo diciamo di plottare a 5 metri in altezza quindi a questo punto facendo salvando lo scrivete viene salvato e probabilmente ha plottato vedete che è comparso un punto più in alto ora questi punti sono temporane quindi fra un attimo spariranno dovrebbero durare vediamo un po' severo edit andiamo a vedere le caratteristiche di questo oggetto sono temporanee quindi ci piegano un po' di più dipende dalle sim dove sono ecco vedete che è sparito quindi sparito ci ha piegato forse più di un minuto saranno due minuti tra un po' sparirà anche l'altro ora quello che noi vogliamo fare è di plottare in maniera continua quindi plottare in maniera continua vuol dire essenzialmente avere un forro possiamo plottare con dei forro quindi possiamo fare il forro è un costrutto che permette di far variare un valore quindi possiamo avere un facciamo float t che è un parametro di partenza facciamo variare t che parte da 0 ad esempio punto e virgola finché t è minore di 5 e poi facciamo incrementare t più uguale e lo facciamo incrementare di un valore per esempio punto 2 diciamo 0.2 e poi diciamo di plottare a questo punto una curva diciamo in cui la x e la y siano funzioni di questo t quindi la x ad esempio potrebbe essere uguale a t la y potrebbe essere uguale a t quindi praticamente ogni punto verrà sempre in coordinato e progressivo quindi la quantità 0 0 0 1 1 1 eccetera eccetera quindi facendo così verrà plottato facciamo save ecco vedete che viene plottato a partire da dove è messo il prim facciamo in edit vedete che qui abbiamo questa è la direzione della x crescente questa è la direzione crescente della y la verde e la z è la direzione crescente in là se volessimo portiamo in alto possiamo anche fargli assumere valori negativi quindi poter dire che t invece che partire da 0 può partire da meno 5 o addirittura possiamo anche fare di più proviamo a fargli no proviamo a fare il meno 5 5 questo qua facciamo un salvataggio di questa di questa cosa e vedete che abbiamo il plottaggio di tutta una curva che parte da se la guardiamo vedete allora in questo modo vedete che viene effettuata una curva ora l'idea è quella di fare una curva un pochino più interessante e magari un pochino più continua per averla più continua la curva potrebbe essere sufficiente diminuire il passo di incremento quindi invece di fare l'incremento a 0,2 gli facciamo un incremento ad esempio a 0,05 questo renderà tutto molto più lento perché dovrà farne 0,05 per ogni unità ce ne sono una ventina quindi devi fare un bel loop un bel giro però il vantaggio è come vedremo adesso che il vedete che viene fatta una linea continua e questa è la linea che può illustrare una retta però noi possiamo formarci una linea diagonale così può servire relativamente poco quindi noi cosa facciamo possiamo provare a vederci il nostro supponiamo di vederlo di fronte frontalmente e quindi vogliamo variare fondamentalmente solo la Y verde e la Z in alto e plottare tutte queste cose qua su questa specie di schermo che magari possiamo anche fare ecco perché no lo possiamo fare trasparente quindi possiamo dire che questo qui è il 60% trasparente magari la possiamo ampliare di dimensioni quindi lo facciamo un po' alto sopra un po' alto sotto la darghiamo a sinistra la darghiamo a destra se ce la faremo ah il verde lo dobbiamo prendere ecco gli togliamo questa texture brutta gli mettiamo una bianca ok quindi praticamente in questo modo possiamo l'idea potrebbe essere quella di vedere ecco vedete già che questo è un esempio di un piano intersecato dalla retta in questione ma se noi vogliamo fare una curva bidimensionale su questo piano potremmo bloccare come dicevo prima blocchiamo la X fissa quindi diciamo che plottiamo sullo 0 e poi facciamo che la T vada invece sia funzione appunto in questo caso 0TT potremmo disegnare una funzione che nel caso specifico potrebbe essere praticamente X uguale T e Y uguale T che è l'equazione parametrica di una retta che è semplicemente Y uguale X quindi facendo in questo modo vedrete adesso che il plottaggio vedete che avverrà in modo tale che tutti i punti della retta rimangono dentro il nostro oggetto quindi in questo modo si può fare si può vedere questa cosa qua allora per farlo leggermente più veloce questo retzing ovviamente si può ridurre l'intervallo quindi si può dire non meno 5 ma facciamo ad esempio meno meno 3 3 quindi variamo l'intervallo T invece più 0,0,5 facciamo 0,1 quindi leggermente più veloce facciamo plottare e so beh qui ricopre magari per vederlo bene conviene ecco vedi stava plottando comunque l'idea è quella che facciamo un reset del nostro script quindi spostandomi spostando il nostro script vedete che si possono ottenere altre curve e non è necessarissimo avere veramente una cosa perché tanto l'idea è quella di far vedere più o meno come viene ora dicevo curve più interessanti allora nel piano possiamo fargli fare delle cose un pochino più simpatiche ad esempio invece di fare la curva normale come questo attivo possiamo aggiungere dei seni ad esempio possiamo fare LL sin di T e magari visto che così verrebbe perché T varia in maniera molto grossa perché sono irradianti si potrebbe ridurre la scala in modo tale da vederla un po' meglio quindi T decimi che dovrebbe rendere la curva un pochino più amplificarla un pochino infatti se noi salviamo questa curva ecco T decimi forse è un pochino troppo possiamo provare a farla invece T mezzi proviamo un po' T mezzi vorremmo vedere un attimo la sinusoide se ce la facciamo ecco vedete che sta facendo un pezzo di sinusoide se invece l'avessimo fatta sin di T ok qui verrebbe proiettata praticamente ecco ecco forse conveniva fin dall'inizio farla così però vedete che praticamente alterando le scale eccetera noi possiamo dipingere delle funzioni bidimensionali ora la cosa interessante potrebbe essere quella di dipingere delle funzioni che non siano bidimensionali ma siano tridimensionali quindi dobbiamo costruire avere delle curve che possano di volta in volta costruire attorno a questo oggetto quindi in questo caso vorremmo anche avere la la x che varia non soltanto la y la z quindi possiamo comporre cercando se puoi su internet si possono trovare delle equazioni parametriche di varie curve quindi questo è un esercizio che vi lascio però se adesso possiamo fare una cosa tipo plottiamo LL cos di T di T T LL sin T questo dovrebbe venire una curva non so neanche quale sia la pena inventata però unisce cosenio e senio quindi dovrebbe dare un po' un'idea vedete di una curva che si muove nello spazio e fa una specie di elica vedete posso per vederla magari meglio appunto qui potrei aumentare il numero di passi e quindi in questo modo averla intera cioè intera cioè senza vedete che viene costruita la curva solida però vedete che viene costruita centinaia moltissimi prim la resa vedete che viene fuori una bella curva ecco sta continuando e in questo modo possiamo anche tenersi poi i prim che vengono generati e prendere l'oggetto finale e usarlo sempre che i prim siano accettabili per la nostra per la nostra sim perché se andiamo a vedere qui abbiamo queste qui sono 410 prim che ad esempio su second life sarebbero una quantità incredibile però potrebbero essere tollerabili su su open sim allora io non so se questo genere di cose siano chiare dunque se volete che poi i prim rimangano è sufficiente che la palla iniziale invece di metterla temporanea la mettiate non temporanea quindi noi prendiamo costruiamoci un'altra tanto per farvi vedere possiamo costruire un'altra pallina un po' più grossa prendiamoci otteniamo una pallina grossa quella da mezzo metro la facciamo però sferica perché sferica rende meglio gli cambiamo il colore quindi la mettiamo quindi blank e gli mettiamo un bel colore verde ad esempio e magari possiamo anche approfittare per mettere la full bright perché no e anche bella shininess quindi per avere degli effetti particolari quindi questa pallina qua potremmo decidere di farla non quindi non gli mettiamo il temporary però in effetti potrebbe essere interessante anche nell'altra metterla phantom perché phantom vuol dire che la gente può passarci attraverso se vengono fuori delle strutture un po' complicate questo può essere un'idea allora prendiamo questa pallina la chiamiamo sempre punto anzi la chiamiamo punto 2 per differenziarla dall'altra la prendiamo nell'inventory e poi la mettiamo nell'oggetto punto 2 e qui c'è questa tecnica punto 2 praticamente facendo bisogna premere control e poi facciamo il trascinamento vedete che facendo il trascinamento col control premuto diventa rosso in questo modo abbiamo depositato dentro l'inventory avremmo depositato forse l'ha fatto vorremmo fare un refresh no allora torniamo al vecchio sistema questo ah no l'aveva fatto quindi in realtà funzionava anche prima solo che non lo faceva vedere quindi cancelliamo il punto doppio nel rezzo della curva gli diciamo di plottare il punto 2 e a questo punto essendo la sfera di partenza più grossa possiamo anche permetterci di fare un incremento non di 0,01 ma di 0,5 ad esempio o di 0,3 leggermente più piccolo delle dimensioni della sfera e vediamo di far funzionare questo oggetto e vedete che otteniamo più velocemente e forse anche con un effetto interessante un lavoro diverso se qui invece di farlo più 0,3 facciamo più denso quindi vedete che abbiamo praticamente fatto una collana quindi più denso così viene praticamente invece una struttura tipo scaglie che comunque ha il suo valore e il rezzero originale che abbiamo usato per rezzarlo possiamo anche toglierlo quindi quello che rimane vedete che è un oggetto che se faceste a mano sarebbe praticamente impossibile e in questo modo potete fare usando delle equazioni matematiche degli oggetti interessanti poi ad esempio questo oggetto qua potreste ah per inciso questi sono anche metodi che vengono usati in second life per produrre collane con opportuni funzioni e c'è gente che si è anche arricchita anche se a me non è eccita l'idea perché vendendo degli oggetti di rezza di questo tipo comunque la chiamiamola collana che viene fuori la selezioniamo è composta da 81 oggetti poi possiamo fare ctrl l questo diventa una specie di gioiello monile non so potrebbe essere un braccialetto ad esempio e potete metterlo nel vostro inventory e poi a questo punto braccialetto se deve essere veramente usato come braccialetto dovrà essere probabilmente ritoccato nel senso rimpicciolito e così via quindi magari lo rimpiccioliamo ecco prendiamo questo braccialetto qua lo riportiamo ce la facciamo in dentro e proviamo a vedere se riusciamo a indossarlo quindi braccialetto quindi chiamiamo braccialetto da indossare allora una volta che avete qualcosa di questo tipo potete fare indossa wear vedete viene indossata sulla mano sinistra però ancora troppo grossa e poi valgono tutte le regole praticamente del quindi deve essere spostato e alzato e messo praticamente attorno al vediamo dove è indossato on left hand quindi è allineato praticamente alla mano sinistra quindi dobbiamo proprio metterlo vicino alla mano non so queste qui sono le tecniche per indossare i vari oggetti vedete che la oh io non sono bravissimo a fare tutte queste cose qua tra l'altro qui potrebbe essere utile fare una cosa che vi ho anche detto che era quello di ok ah no una volta che attachment è attachment quindi quindi dobbiamo per forza arrangiarci così ecco per esempio vabbè adesso l'ho messo un po' da cani magari lo possiamo ingrandire leggermente adesso qui è messo un po' sull'avambraccio però l'idea è che si può costruire praticamente degli oggetti che poi ci seguono chiedo venia per la qualità di questo braccialetto ma era soltanto per inserire il concetto di il concetto appunto di come queste cose che vengono costruite in grande poi possono essere impicciolite e possono diventare oggetti di abbigliamento o oggetti espositivi insomma quello che è quindi il tutto usando delle equazioni come vedete l'equazione che ho fatto vedere qua è una cioè la funzione che ho fatto vedere qua è estremamente semplice sono 20 righe la ripetiamo un attimo quindi c'è fondamentalmente uno stato di default che in cui entrando lui esegue questo tipo di operazioni si può anche fare che lo faccia solo quando si fa il touch però così è più semplice perché ogni volta che salvate viene eseguito il rating di tutto poi nello stato nelle entry cioè quando si fa il save o il reset dello script mettete fondamentalmente un for in cui fate oscillare la vostra variabile t parametrica la variabile t funziona in metri reali e quindi cercate di farla variare in un intervallo per esempio qui da meno 3 e 3 e qui l'unico problema residuo è che non potete mettere delle distanze superiori a 10 possiamo fare anche una prova giusto per vederlo quindi se questo reset qua poi va bene se l'ho fatto in questo modo ma potrebbe essere di qualunque forma se in questo reset gli diciamo gli dicessimo allora mettiamo non 0,1 ma mettiamo 0,4 e gli diciamo di rezzare non da meno 3 ma da 0 e gli diciamo di rezzare fino a 20 metri vediamo se c'è l'orezza effettivamente il T in altezza quindi vediamo in altezza se riesce ad andare oltre 20 metri quindi facciamo il save quindi lui rezzerà questo oggetto che diventa come vedete un'elica se noi qua invece di 20 gli mettessimo 40 ecco quello che volevo farvi vedere è che in realtà adesso gli abbiamo messo 40 metri dovrebbe allungarsi l'oggetto ma in realtà rimane fermo perché arriva solo fino a 10 metri dal centro oltre 10 metri dal centro non ce la fa e questo è un link e un vincolo di questo modo di rezzare ci sono ho detto anche dei sistemi per bypassare questo limite ma richiedono uno scripting ulteriore anche sulle palline e per il momento almeno per i fini didattici di questo video lo lasciamo perdere eventualmente posso fare un video ulteriore più avanzato dove vi faccio vedere come si fa a fare anche con quel sistema se per caso vi venisse in mente di chiedervi come fare per rezzare delle cose colorate in modo diverso è sufficiente metterci ad esempio delle palline di colore diverso già in partenza e poi al momento del rezz rezzate il punto rosso punto verde punto blu ad esempio e riuscite quindi a avere delle curve diverse allora io credo che con questo abbiamo visto parecchio di queste possibilità di rezzing e quindi ci sentiamo alla prossima registrazione buona serata per la prossima